oggi su faner news calcio a 5 calcio a 8 e virgin cup ardenza e lido di nuovo a confronto stavolta per la serie b per l'eurobet semifinali scudetto e coppa italia battuto il sandreland di carattere la stagione ora può cominciare in più i highlights di playoff di c1 del futsal dai preliminari scudetto della lega e dalla virgin cup